Domenica scorsa più ombre che luci nei risultati delle due formazioni bergamasche di Serie D impegnate nei play-off e nei play-out. Il Pontisola, nella terza fase dei play-off, ha dovuto alzare bandiera bianca in casa contro il Legnago, salutando comunque un'annata stupenda conclusa al secondo posto nella stagione regolare, mentre nell'andata dei play-out la coloniese di fronte al pubblico amico non è andata oltre lo 0-0 contro il Seregno e domenica prossima sarà obbligata a vincere in Brianza per evitare la retrocessione. Era diverso tempo che non vedevo questa voglia, questa intensità, questa rabbia di cercare risultato a tutti i costi e soprattutto la compattezza e quindi fa ben sperare per la partita di ritorno. Io l'ho detto a loro, il Chelsea ha vinto la Champions League giocando forse il calcio peggiore che si potesse vedere in quel tipo di competizione, ma ha vinto per la grande compattezza e la grande voglia di ottenere risultato. Ecco, abbiamo 90 minuti, può succedere di tutto, non mollare e poi vedremo. Io penso che indipendentemente dalla partita che sarà quella di domenica, i giocatori hanno dimostrato tutto l'anno di essere dei grandi uomini, perché in una situazione societaria come quella che si è venuta a creare quest'anno a Cologno penso che solo gli uomini potevano resistere fino alla fine e rimanere compatte e uniti per cercare l'obiettivo e di raggiungere questo obiettivo della salvezza. Quindi io a loro, prima ancora della partita di Seregno, faccio un grande applauso, sono soddisfatto e mi ritengo veramente una persona fiera di aver allenato un gruppo come questo. Grazie a tutti.